Ok ragazzuoli, bentornati su ATGaming Siamo ancora di nuovo qui su Arma 3 Sono entrato in una Partita multiplayer in co-op Non so perchè il mio personaggio continua a parlare da solo in automatico Comunque c'è gente intanto che parla Allora, proviamo a raggiungere i nostri colleghi Non so se si stanno muovendo con gli elicotteri, ma Allora Il gioco l'hanno fatto molto, veramente carino Soltanto che è ancora in alfa, quindi Non è veramente apprezzabile, però Guardate la, la, ha una bellissima grafica Vedete il fucile Fico Ok Non so ancora come poter cambiare il fucile Perchè in ogni partita che entro Ho sempre lo stesso di baggiamento Non sono molto ferrato diciamo su Su Arma Anche perchè diciamo che Avevo preso Arma 2 soltanto per DayZ Ma non ci ho mai giocato Quindi Arma 3 è il primo Arma che gioco Uno con l'elicottero, le jeep E io sono l'unico stronzo a piedi Non c'è uno stronzo che viene appia Vieni tu con l'elicottero Ah figa pure l'acqua hanno fatto Che fa? Ma perchè continua a parlare da solo? Penso sia un bug Ok dobbiamo andare là Questo perchè cammina tutto? Andiamo ragazzo su Che cazzo è qui? Che cazzo è qui? Che cazzo è qui? Buona idea Che cazzo è qui Che cazzo è qui Che cazzo è qui Che cazzo è qui Ma vaffanculo Andiamo da quell'altro Mi hanno appena sparato prima E sono morto Non so neanche come Però sono morto E continuiamo qui a salire Per questa montagna E' lontanissimo Veduta la gente con la macchina E' no a piedi Ecco chi è che ammazza le persone Oh una jeep una jeep Ah fatemi piano pure a me Oh no senza E' distrutto Nessuno sa che cazzo Che cazzo ha bisogno di fare Oh Cazzo è qui Oh 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 What the fuck Wow Ok Ok So Mine's kill Friendly My bad Shit I'm getting shot at Yeah Now I have to wait a hundred seconds before I can play Awesome Alright can you guys It was accidental I didn't fucking know about the mines They don't have to shoot me Lol Shoot him Un altro cadavere I need ammo I've got another mine there Is there a way to blow it up What the fuck What the fuck What the fuck So you can shoot them It takes about three shots Ma cazzo si pia Hm vabbè Mi fa un culo Four Return to formation Mi sembra abbastanza pericosa qui la zona Ma qualche paio non capisco neanche il perché Perché non si capisce Che cazzo bisogna fare nel suo gioco Senti io ho visto uno con la jeep la sua sui la offrega C'è in teoria Allora sul server c'è scritto che era una mon Una Un server Coop Però qui Nel senso Non capisco un vero e proprio obiettivo Con un Unde accolo con la jeep l'ho visto Dai glielo fattimo Abiona Oh piana da almeno Let's go Namu Tu Ok go 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 Return to formation Will go Stamolto Stamolto ci pietta incamina una pippa Namu Dai il gas Namu dammi il gas Il gas Return to formation E Eight Return to formation Non puro Ma Il gas Controlla Non puro Sì Non puro Ma Non puro Sì Dove Sì Guarda, c'è presente che tutti girano senza meta perchè nessuno sa che cazzo realmente ha bisogno fa Quello correa con un goccio Vabbè Per il momento è ingiocabile praticamente Che cazzo è quello Nessuno sa realmente, cioè tutti si limitano a sparar colpi a cazzo praticamente Niente ragazzuoli, per il momento è tutto su Arma 3 Appena si estimeranno un po' il gioco che sarà possibile giocare Per altri gameplay vi mostrerò un po' com'è in dettaglio Per il momento guardatevi un po' le anticipazioni Che sono praticamente pochissime, un po' bella grafica e il sistema di gioco che è uguale a quelli vecchi Un saluto a tutti da comando wolf, ciao ciao ragazzuoli Un'ultima anticipazione prima di chiudere il video Adesso voglio far morire questo Questo altro giocatore che prende sta in sella alla mia moto Ci butteremo da questo a scogliare Non penso sarò molto contento ma non me ne frega un cazzo Vai vai baby Vai vai Ma non è morto Eccolo Non è morto ok ora vi saluto veramente ciao ciao ragazzoli